Buon pomeriggio, benvenuti a questa maratona del sonno. Provo a raccogliere lo stimolo proveniente da questo interessante titolo sperando di offrire una serie di spunti che possono risultare utili ma anche incoraggianti per il futuro. Proviamo a pensare cosa può voler dire ingiusto in relazione al sonno. Ingiusto, per esempio, che non segue le regole. Sinonimi, scorretto, per esempio il sonno dell'anziano potrebbe non essere conforme alla struttura tipica dell'età giovane adulta. Vedremo in seguito. Iniquo, il sonno nell'anziano potrebbe essere non equo, non adeguato, insufficiente rispetto alle necessità, a quelle che sono le aspettative della persona. Potrebbe non essere adeguato alle esigenze dell'invecchiamento e alle nuove esigenze di un invecchiamento moderno. Potrebbe non essere adeguato per delle patologie coesistenti o potrebbe essere addirittura in parte anche dannoso, leggermente dannoso, se è un sonno di cattiva qualità. Il sonno in sé è sempre una funzione giusta, buona, fisiologicamente necessaria, utile e tanto più nell'invecchiamento. Invece un cattivo sonno per delle caratteristiche, per delle alterazioni o per dei disturbi primari può essere invece ingiusto, non utile, non può non essere ristoratore, può essere addirittura fattore di rischio per varie patologie anche neurodegenerative. Inoltre, nell'età avanzata ci sono molte malattie croniche che rendono il sonno un po' ingiusto, un po' non adeguato, lo alterano, lo rendono scorretto e questo sonno alterato è ingiusto per il funzionamento globale dell'individuo che invecchia. Ne parleremo. Poi ci sono situazioni sociali e di vita che possono essere ingiuste verso l'anziano e le sue possibilità di dormire. Il sonno poi difficile in queste situazioni amplifica queste ingiustizie sociali e di vita. Pensate ad un anziano, a un paziente con declino cognitivo che non riesce a dormire, che ha un grave problema del sonno e che per questo sia costretto ad essere ospedalizzato. Può diventare ingiusto, meno adeguato, insufficiente rispetto a quelle che sono le esigenze di un invecchiamento attuale. Sappiamo come ci siano nuove età di pensionamento, si lavori ancora dopo il pensionamento, ci siano più impegni familiari e gravosi anche per le esigenze dei figlioli, dei nipoti e ne parleremo. Può essere quindi o non essere funzionale ad un invecchiamento di successo, altro concetto di cui parleremo insieme. Le affermazioni di questi ricercatori di Tiello Fragoso e Gil sono sempre estremamente attuali, pur se pronunciate nel 2007 e le porto spesso con me perché continuano ad essere profondamente vere e ve le traduco. Diventare vecchi non vuol dire necessariamente dormire male. Le persone anziane non devono dormire male per il semplice fatto che stanno invecchiando, ma molti lo pensano. Le persone anziane, Fragoso e Gil dicono, con un'appropriata diagnosi e trattamento dei fattori sottostanti, possono ottenere un sonno migliore possibile e non sono confinati a dormire male per il semplice fatto di stare invecchiando. I disturbi del sonno di cui stiamo parlando in questa maratona e continueremo a parlare sono tanti con l'insonnia e oltre l'insonnia. Questi disturbi primari del sonno sono molto frequenti nelle persone anziane. Più del 40 per cento delle persone anziane ne soffrono di uno o più disturbi del sonno. Pensiamo un attimo all'insonnia e guardiamo come l'età sia associata con la prevalenza dell'insonnia, cioè più si va avanti negli anni maggiore la prevalenza dell'insonnia, ma questo accade soltanto prevalentemente nelle donne in questo studio e quindi incominciano a venire fuori anche importantissime differenze di sesso biologico e di genere che non dobbiamo mai dimenticare. Età e sesso femminile sono quindi fattori di rischio per la persistenza dell'insonnia, più difficile che l'insonnia guarisca andando avanti negli anni. Ma le persone anziane spesso sottovalutano i problemi del sonno, spesso sono meno diagnosticati i disturbi del sonno e quindi anche ricevono minori trattamenti. Ma perché? Anche perché in età avanzata anche i disturbi primari del sonno possono avere delle presentazioni non tipiche che ritardano l'identificazione e il trattamento. Pensiamo per esempio che una persona anziana può avere le apneosfruttive del sonno senza classico aspetto obeso, senza obesità. E quindi bisogna stare molto attenti, andarli a cercare questi disturbi del sonno per ottimizzare questo sonno che non è rovinato soltanto dall'età. E poi ancora non dimentichiamo mai, non dobbiamo mai dimenticare le differenze di sesso biologico nella presentazione clinica, per esempio in una patologia così diffusa come le apneosfruttive nel sonno. Ne avete sentito parlare, ne sentirete parlare. Bene c'è una differenza nella presentazione clinica. Se la compagna di letto spesso porta il compagno dicendo, riferendo, sonnolenza di urna eccessiva, rossamento, apnete stimoniato, il paziente stesso le riferisce, le donne molto spesso riferiscono sintomi più sfumati, insonnia, cefalea, mattutina, facile affaticabilità, disturbi dell'umore, incubi. Quindi una sintomatologia meno orientata che può anche non orientare necessariamente verso le apneosfruttive del sonno e quindi ancora oggi le donne vengono meno inviate per gli studi del sonno, per gli studi relativi alle apneosfruttive e possono arrivare a non avere una diagnosi, averla ritardata, averla soltanto nelle forme più gravi, mentre noi sappiamo che le donne possono avere più problemi degli uomini anche in età avanzata, anche a livelli di apnee meno severi. Ma qual è la soglia dell'anzianità? Per quale età il sonno può essere giusto o ingiusto? Parliamone. La soglia di anzianità è una soglia che va assolutamente adattata alle aspettative di vita delle singole nazioni. In Italia l'aspettativa di vita è aumentata moltissimo rispetto al secolo scorso, 85 anni per le donne, 82 anni per gli uomini, circa 20 anni in più rispetto agli inizi del secolo e gran parte della popolazione tra i 60 e i 75 anni è ancora in ottima forma fisica, non ha un numero elevato di patologie croniche rilevanti, tanto che il congresso nazionale della società italiana di geriatria e di gerontologia nel 2018 ha proposto di aggiornare il concetto di anzianità portando questo concetto, questo limite ai 75 anni e non più ai 65. E sopra i 65 anni cresce anche molto il numero delle donne, si assiste al fenomeno della cosiddetta femminilizzazione dell'invecchiamento ed è qualcosa di cui dobbiamo, anche la classe medica deve prestare molta attenzione proprio perché anche gli approcci diagnostico-terapeutici cambiano. E quindi oggi noi parliamo di terza età, dai 65 ai 74 anni, persone ancora in buone condizioni di salute, con un inserimento sociale, che hanno ancora risorse, buon livello di risorse economiche, quindi una classe per cui evidentemente serve a un certo tipo di sonno. Poi c'è la quarta età, dai 75 agli 84 anni, in cui comincia la dipendenza dagli altri, un certo decadimento fisico. Ci sono i grandi vecchi, oltre gli 84 anni, ci sono i centenari, che sono veramente una categoria a parte, un modello di buona salute. Quando li abbiamo studiati nel progetto Centenari dell'area metropolitana Chieti-Pescara nel 2000-2002, abbiamo visto come questo gruppo di 91 persone tra i 95 e i 108 anni dormissero poi mediamente bene. E andando a guardare nel gruppo, caratterizzato come vedete per prevalenza femminile, abbiamo visto come le persone dai 100 ai 108 anni poi avessero dei punteggi ancora migliori nelle singole componenti di questo Pits Blue Sleep Quality Index, questionario che misura la qualità del sonno, avessero dei punteggi migliori rispetto ai loro quasi coetanei di 95 e 99 anni. E nel 2015 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato questo report molto importante sull'invecchiamento in salute, healthy aging, e il 14 dicembre del 2020 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato la decade 2021-2030 come la decade dedicata ad un invecchiamento di successo. Ma che cos'è un invecchiamento di successo? La definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è il processo di sviluppare e mantenere le abilità funzionali che permettono il benessere nell'età avanzata. Quindi molti sono i determinanti di tutto ciò che possono andare dagli aspetti finanziari, dagli aspetti sociali, ma anche dall'assenza o forte riduzione della disabilità correlata con malfunzionamento cognitivo, fisico e anche col funzionamento sociale. Un alto livello di adattamento ai cambiamenti che avvengono nella persona che invecchia. Questi sono già due aspetti fondamentali di questo invecchiamento in salute, ma le dimensioni che lo determinano sono oggetto di studio sempre più e non sono tutti poi così chiari e misurati, ma sono importanti perché conoscendo le dimensioni che lo determinano possiamo ovviamente lavorare per un invecchiamento di salute. Quindi al di là di quello che abbiamo già detto sugli aspetti cognitivi, gli aspetti di salute eccetera, ci sono anche degli aspetti sociali, non tanto conta, sembra contare la longevità, quanto contino la soddisfazione del proprio modo di invecchiare, la percezione della propria salute e quanto sia importante percepire che si sta invecchiando bene. Bene quindi anche la sensazione soggettiva della propria buona salute e se il sonno come cercheremmo di dimostrare ha un ruolo importante e lo avrà credo a mio avviso sempre di più in quello che è l'invecchiamento di successo, relativamente al sonno sono importanti sia il sonno soggettivamente rilevato dalla persona che il sonno oggettivamente misurato e vedremo che spesso non coincidono ma hanno entrambi una grossa importanza. I disturbi del sonno ai miei sono associati ad un aumento della fragilità nell'età avanzata. Fragilità è praticamente questo concetto caratterizzato dall'accumulo di questa situazione, caratterizzata dall'accumulo di patologie croniche che danno una maggiore vulnerabilità alle cadute, alla demenza, al declino cognitivo, all'ospedalizzazione e anche alla morte. E la qualità soggettiva del sonno è collegata a questa fragilità. L'eccessiva sonnolenza diurna è associata ad aumento della malnutrizione, alla disfagia, deficit di vitamina D. L'eccessiva sonnolenza è associata ad aumento del numero di cadute, a una perdita di forza e di massa muscolare e potremmo aggiungere tanti lavori in tal senso. E anche qui si inserisce un elemento di differenza tra l'uomo e la donna. Il rischio di osa, questo si parla in questo lavoro del 2021 di rischio di osa perché è stato misurato con dei questionari, è associato a fragilità solo nelle donne, mentre l'insonnia sembra essere associata a fragilità sia negli uomini che nelle donne. E questo studio del 2021 conferma i dati di uno studio precedente intorno agli anni 2000 e nel 2009 in cui è stato visto con polisonnografia in una corte molto importante, il Cardiovascular Health Study, appunto che l'associazione tra osas di grado severo e uno o più indicatori di fragilità esisteva solo nelle donne. Quindi capite quanto sia importante andare ad indagare l'osa e altri disturbi del sonno nel sesso femminile. Sempre nel report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2015 si trova questo grafico sulla prevalenza della multimorbilità nelle persone dai 50 anni su. Per multimorbilità si intende avere almeno due o più malattie croniche tipiche dell'età che sono praticamente la cardiopatia ischemica, l'ipertensione, lo stroke, il diabete, malattie respiratorie, l'asma, l'artrite, l'osteoporosi, il cancro, la malattia di Parkinson e la malattia di Alzheimer e altre demenze. Bene, vedete come con l'età anche in Italia questa multimorbilità cresca e negli Stati Uniti questo studio del 2003 ha dimostrato come le condizioni prevalenti fossero l'ipertensione appunto all'artrite, l'ipertrofia prostatica, malattie cardiache, depressione, diabete e anche importantissima era la nocturia, urinare spesso di notte, un disturbo che colpisce colpiva ma colpisce ancora anche attualmente circa il 65 per cento delle persone avanti negli anni sia uomini che donne. Bene, qualcuno di questi disturbi, di queste malattie croniche può causare un disturbo del sonno, lo può rendere non giusto e inadeguato. Guardate per esempio ritorno alla notturia quanto in questa rilevazione del 2009 fosse uno degli elementi principali di disturbo per le persone anziane, molto più delle preoccupazioni finanziarie, di un letto poco confortevole, del dolore e quindi da un sintomo da attenzionare molto. Ancora sulla multimorbilità, questo è uno studio canadese pubblicato nel 2020 su 30.000 persone. Sono andate a misurare la durata del sonno e la qualità del sonno soggettivamente rilevate. Hanno messo insieme dati sia fisiologici che psicosociali. Hanno visto che c'era una multimorbilità nel 70 per cento delle persone, questa cresceva andando avanti con l'età maggiore nelle donne e le correlazioni maggiori che hanno trovato questi ricercatori e non siano col sonno di breve che di lunga durata e una grossa correlazione, quindi un ruolo negativo nella multiporbilità, dell'insoddisfazione del proprio sonno. Ma i disturbi, se le malattie croniche possono disturbare il sonno, i disturbi del sonno possono indurre e peggiorare malattie croniche. In questo studio sulla popolazione svedese su 3.363 persone seguite per 6 anni è stato visto come i disturbi del sonno di grado moderato severo potessero aumentare non soltanto il numero delle patologie croniche nella persona anziana ma anche come aumentassero la velocità con cui queste malattie croniche si sommavano e si accumulavano nella persona che invecchia. Quindi capite com'è importantissimo identificare al più presto il tipo, la natura dei disturbi del sonno perché così possiamo trattarli e questo sicuramente portando benefici all'individuo che invecchia. E tra le malattie croniche abbiamo ricordato il diabete mellito che è anche un fattore di rischio molto importante per malattia di Alzheimer. Bene, vedete come alta sia la prevalenza di apneostruttive del sonno nel diabete mellito e quindi come sia importante occuparsi di apneostruttive nel sonno anche in relazione al diabete. E noi sappiamo che il sonno disturbato e il diabete sono un fattore di rischio per declino cognitivo, già i colleghi ne hanno parlato. Quindi con una interazione reciproca come il sonno disturbato può peggiorare o determinare diabete, il diabete può peggiorare il sonno ed entrambi confluiscono a costituire fattori di rischio per una demenza così importante diffusa come la malattia di Alzheimer. Quindi diabete, ipertensione, cardiopatia abbiamo detto sono spesso associati a disturbi respiratori nel sonno e alla sindrome delle gambe senza riposo che non dobbiamo mai dimenticare ed è sempre molto importante in un soggetto che invecchia che abbia sonnolenza, eccessiva sonnolenza, oltre anche alle malattie croniche prevalenti per l'età, è importante sospettare se ha sonnolenza, è apprezzato il sonno e la sindrome delle gambe senza riposo, ricercarle attivamente. E tra i farmaci che vengono assunti dai pazienti anziani un buon numero viene prescritto proprio per i disturbi del sonno, ma ci sono anche farmaci apparentemente più neutrali che vengono prescritti per altre patologie di tipo internistico che sono in grado di alterare o di disturbare il sonno, antipertensivi, cortisonici, teofillinici eccetera, a parte l'eccesso di alcolici e li dobbiamo tenere in considerazione. Ricordo molto velocemente un modello di regolazione del sonno di cui vi hanno già parlato, vi parleranno i colleghi, che è il modello a due processi. Si deve al professor Borbelli aver introdotto questo modello di regolazione del sonno che si basa su un meccanismo omeostatico, più restiamo svegli, più aumenta la pressione all'addormentamento e quindi il bisogno di sonno. E poi invece un processo C circadiano che ci dice come nelle 24 ore abbiamo dei momenti in cui c'è una maggiore predisposizione al sonno, altri in cui c'è nemmeno. E questi devono lavorare in fase anche nell'individuo che invecchi. E ho richiamato questi due meccanismi proprio per introdurre il concetto di ritmo circadiano del sonno. Le persone anziane cambiano anche un po' dal punto di vista circadiano. Stanno un po' più, tendono a stare più tempo a letto. Dal punto di vista del ritmo circadiano tendono ad avere un'anticipazione di fase di sonno, cioè andare a dormire mediamente prima e risvegliarsi prima al mattino e possono avere anche una riduzione dell'ampiezza di questo ritmo sonnoveglia che cambia tra il giorno e la notte e questo è maggiore negli uomini, un aspetto in cui gli uomini sono più svantaggiati. E poi fanno più sonnellini nel corso della giornata, dipende da quale, ripeto, fascia d'età stiamo considerando. Gli anziani di solito, una prima differenza, tendono a fare sonnellini in tardo pomeriggio sera, mentre i giovani prevalentemente nel primo pomeriggio. Ma è qualcosa da attenzionare, fare troppi sonnellini involontari durante la giornata, molto frequenti, perché correlano con un'alterazione delle performance cognitive e con alterazioni di memoria, sembrano essere un marker o un rischio per declino cognitivo. I ritmi circadiani ve li ho richiamati perché controllano moltissimi aspetti del metabolismo, della sintesi del DNA, della sintesi proteica. Quindi controllano tutte quelle fasi di sintesi delle proteine fino all'aggregazione. Punto in cui, per esempio, le proteine tipiche, le proteine che purtroppo sono il marker neuropatologico, ad esempio della malattia di Alzheimer o di altre demenze, sono caratterizzate da un'alterata aggregazione. Quindi capite anche come questo ritmo circadiano poi sia importante per meccanismi che diventano patogenetici di malattie neurodegenerative. Ma quanto bisogna dormire? Allora, il tempo di sonno mediamente si riduce con l'età. Vedete da questo grafico tende, ci sono dei tempi di sonno che possono essere raccomandati, che possono ancora essere appropriati. Possiamo variare tra le 6-7 ore, possiamo però, ci sono persone che dormono 5, persone che dormono 10 ore, dipende dall'iprotipo di base e dall'eventuale coesistenza di patologia. Però mediamente nell'invecchiamento il tempo totale di sonno tende a ridursi. Lo avevano già visto in questo importante storico studio del 1985, professor Lugaresi e collaboratori nella Repubblica di San Marino, in cui avevano visto che andando avanti con l'età si riduceva il tempo totale di sonno sia nelle persone che si consideravano buoni dormitori che quelli che si consideravano cattivi dormitori, per cui c'era una prevalenza femminile. Bene, con gli attuali big data, 11 milioni di notti studiate con attigrafia, è stato confermato che con l'invecchiamento la durata del sonno tende a ridursi. Ci sono più risvegli notturni e c'è questa tendenza all'anticipo di fase del sonno e del ritmo circadiano. Ma è importante occuparsi anche della durata del sonno anche se non è il parametro fondamentale col quale giudichiamo un sonno giusto e ingiusto. Si è discusso tanto se per i fini del rischio di malattia di Alzheimer fosse peggio dormire poco o dormire molto. Bene, il rischio collegato alla durata di sonno ha una curva U, quindi questo è uno studio amplissimo su circa 8.000 persone seguite per 25 anni e è stato visto che sia dormire meno di 5 ore che più di 9 ore configurava un rischio per malattia, per demenza, non strettamente malattia di Alzheimer. Quindi anche la durata è stata oggetto di studio, ma non è, ripeto, l'unico parametro. Quindi gli studi polisonnografici che cosa ci hanno detto? Che nelle persone andando avanti con l'età il sonno, riassumiamo, diventa più frammentato e superficiale, aumentano gli arousali o i risvegli, aumenta la veglia infrasonno, si riduce l'efficienza del sonno e il tempo totale. Ma c'è anche una riduzione di alcuni stadi del sonno, per esempio del sonno ondelente, il sonno N3. Qui vedete schematizzati due ipnogrammi di un soggetto giovane, un soggetto anziano con apre, in cui vedete molto decurtate, ridotte, quasi assente, la componente N3 del sonno, lo stadio N3 del sonno. In questo grafico vedete un po' riassunto quello che stiamo dicendo. Aumenta lo stadio N1, c'è una riduzione del sonno REM che vedete, proporzionale alla riduzione del tempo totale di sonno, però questo sembra sia prevalentemente appannaggio delle fasi precliniche di neurodegenerazione, quei momenti in cui la neurodegenerazione si sta già stratificando ma la persona non presenta ancora i sintomi cognitivi di una demenza e di una malattia di Alzheimer. Quindi è importante conoscere cosa vuol dire una riduzione del sonno REM. Poi c'è la frequenza e l'ampiezza di alcune figure del sonno fusi e complessi K risultano ridotti. Quindi un sonno non giusto come struttura, per esempio un sonno a cui c'è una riduzione, una destrutturazione del sonno REM o c'è una frammentazione del sonno, questo è stato visto in alcuni studi correlare con i livelli per esempio di orexina o di altri marcatori di neurodegenerazione nel declino cognitivo lieve nella malattia di Alzheimer. Quindi capite come questa apparente ingiustizia può essere un punto di attacco per terapie e strategie preventive come vi hanno già accennato. Ma i cambiamenti del sonno in sé correlati all'età sono veramente solo correlati all'età e questi cominciano ad apparire intorno all'età media, intorno ai 50 anni e poi non è che progrediscono esponenzialmente. C'è una specie di plateau intorno ai 60 anni e si modificano quelle cose di cui abbiamo parlato solo minimamente dai 60 ai 102 anni e quindi non è l'effetto età per sé esiste, però molti e tanti sono i fattori precipitanti che possono alterare il sonno. Perché con l'età le persone tendono a dormire meno? Ma forse il bisogno di sonno è ridotto? Sembra di no. Altri autori pensano che il bisogno di sonno non è cambiato, mentre è alterata la capacità di generare o percepire il sonno. Non c'è ancora un anivoco parere su tutte queste due ipotesi. Sembra più accreditata l'ipotesi per cui gli anziani avrebbero un'alterazione prevalente dell'abilità di registrare, percepire e generare il sonno di cui comunque hanno bisogno. L'età avanzata infatti è associata a un peggior sonno misurato in polisonnografia nell'uomo, a un peggior sonno soggettivamente rilevato nelle donne verosimilmente per diversità del ritmo circadiano, sulle quali non mi dilungo ma che sarà sicuramente interessante studiare sempre meglio. Ma non solo le malattie alterano il sonno nell'invecchiamento. Sono fattori sociali, ambientali, nuovi ritmi di vita e di lavoro, più inquinamento luminoso di notte, minore esposizione alla luce solare durante la giornata. E poi l'età del pensionamento sta mediamente aumentando. Ci sono pochi studi dopo il pensionamento. I dati disponibili le persone tendono a dormire un poco più a lungo, ad andare a letto più tardi, a svegliarsi più tardi, sia durante la settimana che nel fine settimana. Ma molti pensionati continuano a lavorare dopo i 65 anni, fino a 75 e anche oltre. Quindi bisogna un momentino capire questo stress lavorativo su un sonno diverso, anziano tra virgolette. E anche il cosiddetto social jet lag, concetto introdotto nel 2006 dal professor Whitman, cioè il disallineamento tra il sonno biologico e il sonno che la vita sociale ci impone o ci regala bene, sembra ridursi con l'età. Però esiste ancora e se esiste ancora va studiato meglio e potrebbe anche interferire negativamente in un sonno più fragile. Quindi nell'invecchiamento dormire male non è un'ingiustizia inevitabile alla quale dobbiamo adeguarci. Ci sono nuovi confini tra disturbi e sonno, circa di anni, malattie neurogenerative, nuove possibilità di prevenzione. Cosa portare a casa da questa conversazione insieme? La popolazione geriatrica sta cambiando, ci sono differenze di sesso biologico, di genere, socioambientali e nuove direzioni della ricerca bisogna prendere per comprendere meglio questo. Bisogna interessarsi attivamente dei disturbi del sonno e del ritmo sonnoveglia fin dall'età media perché il sonno sia il più giusto possibile. Bisogna caratterizzare attentamente i tipi di disturbo del sonno e le relative comorbidità, intervenire sull'insonnia e disturbi del sonno anche a scopo di prevenzione sia della multimorbidità che delle malattie neurodegenerative con un approccio integrato. Quindi un sonno sano diventa sempre più una priorità di salute pubblica anche in età geriatrica. Grazie dell'attenzione e la maratona continua. Rivederci.